...e all'istate, all'arragale, no? Allora, 50 metri in arrière, 50 metri, 100 metri, manco. C'è la chiesa. No, la chiesa è la fronte. Però devi venire verso la piazza. Come se noi andavamo all'ancienne maison. Quanto all'église, come se noi andavamo all'ancienne maison, ebbè, mon occhi, c'è di là-bas, ebbè, in fasi. In fasi. In fasi del bar. Eh sì, è rumore. Sì, 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 sì. A carino, un bar, l'usano, ti affronti. No, ne basta ne dici un nome. Un nome, basta ne dici, la tua manna, i marini. Marini. Ma dovete i marini? Allora, o andai, o andai, o andai, o andai, o andai, arragale. Allora, arragale, agli cacciatori. Viene prima quello che dici a zia. Eh, qui giù io, te l'ho giugliata qui già. Ah, allora vai arragale. Sia a destra e casinata. E vai arragale allora. No, a tu colmi. Ma io dici che è più grande. Ma comunque mai c'è un po' di assortimenti a rumarini, eh? Mio assortimenti di qui, ma è vero? Fani con la rumarini, c'è un po' di assortimenti. Sì, di qui. E allora, vieni all'occasione. Posciamo sotto i tuoi? Vieni, vieni, vieni. Eh, siamo, che te vuoi, tu devi prendere le medicine, diciamo, che la tassia. E così, vieni. E allora, porto. Eh, pigiamo la vacca, no? Sì, sì. Come vuoi, io posso venire pure per un amatore? Non, non. Il fai so molto, questo. Non, non, non. Come vuoi la pasta? Come vuoi la pasta? Anna, come vuoi la pasta della tassia? Ah, vieni, ti ho detto. Pierre, vieni, come vuoi la pasta della tassia? Vieni, più me vuoi la pasta della tassia? Non, oggi sono ricostante della tassia? Am where vuoi? E lei dice l'amore. Test, volte, gioca del nasce? Fai fare bijutta anche, no? che se si arriva qualche cosa e mi è tu dei garzoni fa dei figli o non è anche dei garzoni fa dei figli